S'è partì Partito? Yes Ci siamo? Mamma mia Comunque a proposito di Zipino S'è rinfognato quando tu hai uscito con The Division a marzo The Division gioco dell'anno Ve lo compro subito Tu se l'hai comprata la mia Guardamo se entramo e la partita è quasi finita Probabilmente Ma sto soldato con la faccia di uno che ha appena scoperto averci l'AIDS Parlamone C'è sia quello sotto che quello sopra C'è come l'AIDS? Oh sì, ho l'AIDS Come l'AIDS? Ma quello sopra che sei intuato quello sotto Gli ha detto Gli ha detto male allora quello sotto Sì Quindi lui è male Allora Io ho un cecchino quindi Io faccio quello che rifornisce la munizione Abbiamo perso l'Obiettivo Delta Ok Eh grande Ale non mori eh Oh 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 Rischio Oh porca troia grande Questa è presa Questa è presa Scrippiamo Questa è presa Oh Vabbè Che cazzo è questo? Mina anti carro Lui io Ah Ah 90 oh che spalle Questa è Allora 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 questo è presa Ehm Oh 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 Senti che schioppettate come arrivano? Senti che schioppettate come arrivano? Ehm Grande Occhio c'è in cavallo dietro le occhio dietro dietro c'è in cavallooooooo Nooo Ma come ho fatto? St'ha fatto Ha 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 Scusare la puttana Eccolo Ma questa è mia è mia Oh ma dai ma porca Oh ma questa è immortale porca puttana Questo non more oh Questo non more oh Ci ho sparato pure io Ma dove rendi qua? Assistenza uccisione Oh ci sta qualcuno che mi sta a sparare Eccolo dietro ma te sto caricando non posso difenderti grande ecco volevi? volevi? stiamo finendo la cazzo aiaaaar c***a ma piato un pieno sto m***a livello 75 complimenti c***o livello? 75 c***o non conosce niente no no il sole se l'è scordato probabilmente c***o non so cos'è aiaa avete proiettili di scorta? stiamo perdendo cassetta messa ora si sta in profissione ma guarda se questo muore oh bella ziii e' man c***o mi devo scaldare oh pure questo 56 cioè porco da livelli importanti qua oh no la perdiamo di 15 punti questa no ma l'ho persa l'ho persa dai ma che belli tutti e due stronzi qua cassetta medica ecco ma cecchina cecchina mi ha già le 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 il pantone che dove sto io? so io chi è scemo ee eeeh vabbè tanto voi che c***ggiate vado a vincere la partita io eh Vai grande Che merda tesci Grandissimo Ehi amico Ci vediamo levato il cazzo da qua Ma come fanno? Ecco la sotto Segnala sempre qr1 Segnalo Oh oh Giovani guardate un po' qua che c'è Guardate un po' qua che c'è E' uno che è salito e ci si è fatto tutti e tre Quando stai? Eccoli Non capisco perché non ciò va a prendere No morimo morimo fidate morimo Ma te ci vanno il culo qua ma te Ecco qui cassetta medica C***o non l'ha dentro ma lo sento Aua? Aua dove stanno? Volevi Qua dentro Granancia in di aria Occhio Eccolo qua che scappa Eccolo qua che scappa Dietro sul palazzo dietro Il palazzo è rotto dietro Dove stai? Non moriamo a te Eh non morire aspetta come vengo io Cane merdoso dove sei scappato? In alto sul palazzo in alto Ha messo la bomba questo No io 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 Il mio è il mio Ok l'hiamo preso Qua stavo un trigger Cassetta medica per te amico No Doppia kill Ho l'osso che c***o 8% di C***o Tripla kill dai c***o Abbiamo conquistato l'obiettivo ecco Occhio Abbiamo preso c***o le c***o 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 Ecco Quattro kill defila Qua sto facendo una stracina eh Ecco Ma ragazzi Tutti a C C sono uno, due, tre, quattro persone su C 5 persone su C a sinistra 5 a sinistra ok persa che piscio terzo video partito e andiamo ragazzi qua Italia verso Germania la bestia nera e ricordiamolo che la mamma del tedesco è una puttana ma non c'è il cane sa rocco si sa rocco la scuola di pensiero questa scuola del bestemma è il momento del lancio a patate aia aia oh e mori bastardo chi è guarda che numero questo poco ci faccio pure il replay stronzo mori bastardo era il mio d'occhio stanno davanti a lei però pure qua sotto che cazzo ma quanti stanno rinchiusi qua dentro cazzo 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 è uscito a sto merda aiuta la porta Matteo Chi è che mi hai chiamato? Qui scherzo qua Stefano Stefano Dai Stefania metti Butterfield Dov'è? Ci manca il quinto Già sono scelta su Butterfield Per te Oh è entrato bella ste Te lo so dire Non l'avevo visto Se non facciamo gli stronzi La potremmo pure riprendere Ragazzi comunque io non vi vorrei Fa squirta improvvisamente Ma stiamo vincendo Sì siamo a vincere Sì sì Non parlare Ok 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 Non schiacciate Occhio dietro Occhio dietro Occhio dietro Ma se sei morto Deve non so che c'ho una connessione a merda io o se questo no vabbè ci stanno certi certi non morono proprio mamma mia guarda questo dove cazzo va questo questo furgone voglio sapere dove cazzo va solo io quando guido il car amato pesante no non vado a nessuna parte ma di verde che colpo c'è dai colpo 83 mannaggia come fai a togliere 83 cassetta medica ecco tutto debito scappa scappa occhio di fianco veramente doveva morire doveva morire hai ricevuto un invito da c'è roberto che un cazzo di bombardiere no eccolo ma io l'ho più l'ho perso parco io l'ho perso pure io che cazzo vado su e gli smanderappo tutti oh che cazzo ma è te è accaduto vabbè 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 oh io io andammo con la lambretta va inguitabile la lambretta dal cannone su e ecco questo stai con me comunque sei inguitabile sta cazzo cosa stai facendo stai facendo pensavo ho trovato in movimento ho trovato sulla moto stai facendo ho visto malissimo c'è no è inguitabile la moto porca vacca mamma mia vabbè vabbè abbiamo perso dei 50 punti dai se poteva fa meglio però non è inguitabile la moto